La mia presenza qui oggi vuole essere quella di chi si mette a disposizione. In questo momento l'Umbria non ha un rappresentante politico in Parlamento della Lega 9. Da qualche tempo, Salvini l'ha detto in maniera chiara, il nostro percorso non può essere un percorso che dà risultati se non si dirà. A convincere anche le persone che stanno fuori da dove la Lega è nata, in Lombardia piuttosto che in Veneto, che c'è l'unico grande progetto attraverso il quale chiamiamo la scelta del federalismo, chiamiamo l'identità e chiamiamo la protezione dei valori fondanti che stanno alla base delle nostre tradizioni e delle nostre storie. Se non si porta la gente a riflettere e difendere questi valori, a questi principi, assistiamo non solamente a una crisi economica, ma soprattutto a una crisi di identità. E di fronte a questo poi arriva la pialla della finanza, come sta avvenendo con l'euro, pialla via tutto, tutto livellato, siamo molti di soldi per pagare le tasse e per remunerare il debito pubblico e tutto il resto finito lì. Tant'è che come poi si vede adesso anche qua, dove va in crisi la ciaireia, proposte alternative, che tengano conto a partire da quello che il territorio sa dare di più, quindi le sue caratteristiche anche in termini di storia, non sono mai considerate. E allora su questo mi sono messo a disposizione dell'Umbria, che è il territorio non mio. Io non sono qui per essere in sostituzione vostra, sono qui perché voi possiate, prendendo l'iniziativa, rappresentare gli Umbri, aderendo a un progetto politico, perché l'Umbria deve essere degli Umbri.